Io credo che sia molto importante che prima della pausa estiva si approvi alla Camera la riforma della giustizia, la riforma Cartavia. È una riforma fondamentale perché tutti i soldi che arrivano dall'Europa sono soldi tanti ma sono condizionati ad alcune riforme che dobbiamo fare ed è importante che le facciamo perché sono troppi anni che non si facevano. Quella della giustizia è una di quelle, una giustizia rapida, efficiente, veloce e giusta ovviamente. Mancano solo alcuni piccoli aggiustamenti, l'ultimo meglio è assolutamente fattibile nei prossimi giorni e poi il voto di fiducia che chiuderà la vicenda e consentirà poi di andare in autunno all'approvazione finale del testo. Io sono molto fiducioso, penso che sia una grande e importante missione quella di approvare la riforma della giustizia e credo che sia veramente a portata di mano. Ma scricchiola un po' il governo perché secondo lei... No, il governo non scricchiola. Mi sembra assolutamente naturale che di fronte a passaggi complessi ci siano discussioni. Questo è un passaggio complesso come lo sono stati altri come lo sono altri. Aggiungo anche, penso che sia una bella notizia che Salvini si è vaccinato, segno che il messaggio di Draghi di ieri è stato ben recepito ed è stato importante darlo.